Questa è finita, bambini! Buon amici! Siete sono pronti? Siete già gruia alla tavola? Noi! Ivertitevi! Siete sono pronti? Pronti! Ai vostri costi! Venga! Venga! Ecco che arriva un'altra categoria I figli più belli fatemi sentire sempre con un applauso Se volete rincoraggiare che si giovani è venitivi Mi sta arrivando Dai 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 Mi rende duro che non manca molto La porta la vedete Ma scusate Chi è questo? Oh no! Sfruttiamo Ecco perché corremono il bambino Ho capito perché? Io vi faccio una corra Non era una politica Stavano scappando tutti Wow! Wow! Sfruttiamo 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 Sfruttiamo